Hanno preso in via lo scorso 25 settembre corse di formazione per gli avvocati che vogliono iscriversi nell'elenco dei difensori di ufficio semplicemente aggiornarsi. Si tratta di un ciclo biennale di formazione caratterizzato da 90 ore suddivise in 32 incontri, distribuiti dal mese di settembre 2015 a dicembre 2016. Al termine della formazione verranno rilasciati crediti ai partecipanti. Sono aperto sia a coloro praticanti ed avvocati che devono inserirsi nell'ambito dell'elenco, che con la riforma di recente attuata dal Consiglio Nazionale Forense sarà un elenco non più gestito a livello locale, cioè dai singoli consigli dell'ordine, bensì a livello nazionale e quindi dal Consiglio Nazionale Forense, sia ai colleghi che sono già iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio e che vogliono comunque e sentono necessario comunque aggiornarsi sempre, continuativamente. I corsi organizzati dal Consiglio dell'Ordine delle Avvocati di Sulmona investono un ampio bacino di utenza chiamando a raccolta avvocati di Avezzano, L'Aquila, Pescara e Roma. Una chiara dimostrazione di come il Tribunale di Sulmona, nonostante il rischio di incombente e soppressione, funziona e mantiene la sua vitalità. E quando arriva a dire Simona Fusco, avvocato con delega, la formazione. Se fosse bisogno che comunque il Tribunale di Sulmona, nonostante sia sopprimendo, fino al 2018 infatti siamo ancora in attività e poi non sappiamo cosa succederà, è comunque un Tribunale vivo che lavora, che opera sul territorio e che offre anche dei servizi ai colleghi, consentendo loro di ricevere una formazione. Questa è solo una delle iniziative poste in essere dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Sulmonese. Le altre saranno presentate prossimamente in conferenza stampa. Progetti di questo genere non fanno che confermare come il Palazzo di Giustizia mantiene la soverosità. E sarebbe davvero impensabile confermare la chiusura.